Buongiorno amici, Edoardo De Filippo diceva che gli esami non finiscono mai. A me viene da dire che la vita ti costringe sempre ad avviare nuove avventure anche alla mia tenera età che voi conoscete molto bene. Siccome una delle case editrici con le quali pubblicavo, un editori e l'altra è Mondadori, un editori ha cessato l'attività, quindi ho ripreso in mano ovviamente tutte le mie pubblicazioni e adesso sto uscendo con pubblicazioni rinnovate. Questo libro è uscito prima in inglese e adesso finalmente esce in italiano. Che cosa faccio in realtà in questo lavoro? Sto riprendendo i vecchi capitoli, quelli precedenti, li sto rinnovando, sto aggiungendo nuovi capitoli con temi che non avevo mai trattato nei libri precedentemente e quindi sto curando nuove pubblicazioni con la casa editrice Tutti e si sta lavorando molto intensamente perché sto lavorando con molti autori con i quali ero già collega prima, per esempio sto lavorando con il professor Gian Matteo Corrias che conoscete molto bene, sto lavorando con il dottor Francesco Esposito e anche lo conoscete presente anche sul canale e con lui stiamo per pubblicare entro la fine dell'anno un nuovo libro sulla figura di Gesù e quindi stiamo procedendo in questa direzione. Questo libro rappresenta quindi per certi aspetti una rivisitazione di capitoli contenuti in altri libri e poi ci sono molti capitoli nuovi. Vi leggerò alla fine anche l'indice così potete voi stessi farvi un'idea del lavoro che abbiamo fatto. Dico abbiamo perché, sapete, c'è un team che lavora, per quanto riguarda i contenuti ovviamente me ne occupo io, ma per esempio in questo libro abbiamo aggiornato un aspetto che alle volte è dimenticato ma che in realtà è molto importante per le persone interessate che è la bibliografia, perché la bibliografia consente di spaziare attraverso gli argomenti che sono trattati. Un altro elemento di novità, ad esempio, è l'introduzione. Normalmente l'introduzione è un capitolo che viene saltato. Ecco, per chi acquisterà questo libro io voglio dare un consiglio, non saltatelo, non fatevi trarre in inganno dal titolo introduzione perché in realtà è la storia del culto dei cargo più tutta una serie di indicazioni sulle attività del Pentagono e della NASA che, voi sapete, sono teoricamente e vedremo nel futuro quanto praticamente collegate ai contenuti della Bibbia. Quindi ci sono tutta una serie di elementi di novità. Ho inserito, ad esempio, a pagina 122 una tabella che contiene, rappresenta graficamente, un concetto che deve essere molto importante. Quando ho parlato qui dei patriarchi antidiluviani, i patriarchi antidiluviani in genere vengono visti in successione uno dopo l'altro, invece con questa tabella sinottica si scopre che Adamo è vissuto fino quasi all'epoca di Noè, quindi questi patriarchi convivevano e questo comportava tutta una serie di elementi interessanti. Poi abbiamo rivisto la parte scientifica relativa ai sacrifici, proprio la parte scientifica in particolare, per esempio, la combustione delle catene grasse e proteiche, composte da diversi amminoacidi presenti nel grasso e nella carne delle vittime sacrificali, produce sostanze la cui struttura chimica ricorda i peptidi opioidi che hanno effetti simili a quelli delle endorfine. Queste sostanze possono essere assorbite attraverso l'apparato gastroenterico, la mucosa nasale ed ecco gli Elohim che respiravano questo fumo, le vie respiratorie. Queste sostanze danno assuefazione, è necessario pertanto ripetere e incrementarne l'assunzione per continuare ad avere sempre lo stesso effetto. Dallo studio della composizione chimica delle sostanze prodotte dalla combustione dei grassi e delle proteine animali, rileviamo una sostanziale affinità con le sostanze sopradescritte, cioè i peptidi opioidi endogeni e gli opioidi in generale. Possiamo quindi ipotizzare che proprio questi componenti morfino simili del chetoret, cioè della offerta bruciata che Yahweh chiedeva continuamente, potessero essere responsabili di un effetto calmante palesemente dichiarato nella Bibbia sull'Elohim e sugli Elohim e della necessità del cosiddetto Dio di averne a disposizione notevoli quantità. Ecco, questo è un esempio di cose mi sono segnate ma non sto neanche a leggervele tutte, non c'è motivo di chiamare questi vigilanti angeli né possono essere considerati tali per quanto riguarda le caratteristiche che la tradizione attribuisce a loro. Qui ho affrontato alcune parti dei libri di Enoch che, come sapete, sono libri molto affascinanti. Ricordiamo che i Sumeri chiamavano il loro paese Chiengir, cioè terra dei vigilanti, e che gli Egizi conoscevano in etero, ossia i guardiani, fin dai tempi antichi. Queste non sono semplici coincidenze e non dovrebbero essere sottovalutate. Il filosofo greco Celso, secondo secolo dopo Cristo, ricorda che i primi cristiani sostenevano che molti di questi guardiani erano già discesi sulla terra a dozzine. Le narrazioni di vari popoli parlano di individui che formavano gruppi di potere e a cui erano affidati determinati compiti, tra cui la distribuzione dei governi sulla terra, c'è addirittura un libro sumero che parla di Enki e del nuovo ordine mondiale, che è un termine oggi molto usato parlando del nostro futuro e quindi tra cui la distribuzione dei governi sulla terra e avevano allora stabilito un nuovo ordine mondiale per garantire l'osservanza delle leggi come nel testo biblico che stiamo per leggere e poi chi vorrà lo leggerà. Quindi ci sono elementi relativi a capitoli precedenti che sono stati rivisitati e capitoli nuovi. Io direi che la cosa migliore che posso fare per correttezza nei vostri confronti, perché amo sempre essere molto chiaro nei confronti dei miei amici sul canale, non solo, nei confronti dei miei lettori, vi leggo l'indice e così almeno sapete quali sono gli argomenti che ho trattato in questo libro. Vi ho già detto dell'introduzione che non è un'introduzione classica ma è piena di contenuti relativi al culto dei cargo, al pentagono e alla nasa. Poi c'è un discorso sul metodo, un capitolo intero dedicato agli Elohim, uno al Ruach, l'Adam Afar, la caduta dell'Uomo, un capitolo intitolato avanti e indietro con gli Elohim che rappresenta la descrizione di un concetto molto interessante al quale non pensiamo mai perché non diamo sufficiente peso a certi termini biblici, i giganti, la nascita del monoteismo, un capitolo intitolato una proprietà privata, la droga degli dèi, i messaggeri di Dio, Satana, Elia, due capitoli dedicati ai cherubini e un ultimo capitolo dedicato e intitolato il Dio alieno. Poi c'è un glossario su alcuni termini essenziali che sono presenti nel libro e che vengono spiegati in questo glossario, poi c'è l'ultimo capitolo che è ovviamente dedicato alla bibliografia che abbiamo arricchito proprio per dare la possibilità di approfondire questi argomenti andando a vedere che cosa ne hanno scritto diversi autori e la bibliografia è sempre un capitolo molto importante all'interno di un saggio ovviamente. Il libro è disponibile da oggi, link che trovate qui sotto nella descrizione e una descrizione dettagliata del libro la trovate nel mio sito maurobiglino.com. In chiusura vorrei anche ricordare che questa è appunto la versione italiana del libro Gods of the Bible che è uscita prima in inglese alcuni mesi fa e devo dire che ha avuto la fortuna di avere una presentazione ufficiale da parte di Graham Hancock che ovviamente ha dato una grande spinta a questo libro che sta godendo di un grande interesse a livello internazionale, quindi io spero che lo stesso interesse possa riversarsi su questa versione italiana. Quindi a tutti gli interessati, a me non rimane che augurare buona lettura e poi ovviamente vi do l'appuntamento per i prossimi video soliti sul canale. Quindi grazie a tutti, ciao e arrivederci. Grazie a tutti.